Comenzo, un consiglio è gastare il meno possibile. L'altro dia in casa di un alunno, amico, che virò amico, che comprò una piccola macchina di banco già semiprofessionale, ma si usorveci logicamente, non tendo esperienza, mi chiede Mirko, passa qui, stava là in campina, e lì mora là in campina. Mi chiede, fai, passa qui, no, mi chiede, se usorveci la misma resetta che fizimo no curso, non sai la misma testura, perché, repito, è una question di potenza, no? Ma che accontese? Io fui là in casa dellì, a gente ci fez un fiordilatte, una resetta base di fiordilatte. Sì, è verdade, i cervelli ci saio da macchina puxento, perché? Perché ainda non c'è abbastanza agua congelata, non c'è compatto come sai io, no curso. Ma dopo di unas 2 ore dentro del congelador di casa dellì, a gente ci tirò i cervelli del congelador, pegavamo con la cugliera, era perfetto, gente, era, no, è spatulabile, perfetto, non c'è mai, ha quell'effetto buscente. Lo repito, non si preoccupa, gente, nel comienzo, poten comienzar con un macchinario barato. Grazie mille. Grazie a tutti.